Adesso ascolterete due intellettuali, due scrittrici, due pensatrici, due donne molto diverse, anche molto divertenti. Durante il lockdown hanno inventato un format su YouTube, nel senso che si sono messe a disposizione, hanno messo a disposizione le loro idee differenti per dei dialoghi ed era buon vicinato. Questa sera, anche se stanno lì confabulando, ma a breve si avvicineranno, sotto i vostri occhi nascerà un nuovo format, perché devono parlare di geometria e politica della lavastoviglie, non so di più. Sono Michela Murgia, che arriverà. Michela Murgia e Chiara Valerio! Buonasera, ho dimenticato gli occhiali chiari e quindi sembrerò un oiettatore, ma mi assolverete. Certo che arrivare dopo Bergonzoni è un po' come essere Elvis Presley che si deve esibire dopo che Jerry Lewis ha cantato Great Balls of Fire e nella fase finale del pezzo, ti ricordi, apre il pianoforte, versa una bottiglia di whisky, dà fuoco e finisce Great Balls of Fire con il pianoforte in fiamme. E poi esce e dice, toh Elvis, vai! L'hai portato il whisky? No, perché? Però c'è del disinfettante per mani, è un po' alcolico? Sì, è il disinfettante dell'unicorno. Diamo fuoco alla mucchina. Diamo fuoco alla mucchina, aspetta che mi serve il telefonino per una cosa che devo fare. E anche la mucchina con l'unicorno mi serve. Ecco qua. Allora, l'incontro di stasera, che aveva un titolo sconcertante, penso che molti siano venuti, intanto perché vedo molti uomini con tanta poca pratica con la lavastoviglie e sperano forse che questa sia una lezione magistrale su come si utilizza. In parte è vero e in parte no. La lavastoviglie come paradigma culturale e sociale. Noi immaginiamo che a un certo punto la razza umana venga sterminata, non ovunque ma solo qui, senza lasciare tracce archeologiche, tracce letterarie, tracce di alcun genere che permettano di ricostruire che tipo di società abitava, diciamo, questo paese. L'unica cosa che rimane è un libretto delle istruzioni, il libretto di istruzioni di una lavastoviglie. Quindi la sfida è che cosa si può capire di una società e delle sue contraddizioni prendendo in mano un libretto di istruzioni che naturalmente nasce pieno di indicazioni tecniche, ma di fatto se sono l'unica cosa rimasta, quelle indicazioni tecniche assurgono al rango di fondamenti ontologici, di notazioni esistenziali. E quindi noi cominceremo ad alleggere, diciamo, alcune delle istruzioni di una lavastoviglie. La marca è, non si può dire, una delle nostre... È una affidabile marca tedesca di elettrodomestici. È tedesca? Che è il nome di qualcosa che si spalma sulle fette biscottate. Ma non è italiana? No. No. Ah, ok, non lo sapevo, penso fosse italiana. Perché sei sovranista, Murgi? No, però avrei dovuto capire che la tedesca dà le istruzioni. Però, vabbè, cominci a tu, quelle che ti hanno più colpito. Allora, vorrei leggere subito il paragrafo 4 dell'uso previsto. Le persone che per le loro capacità fisiche, sensoriali o psichiche o per la loro inesperienza o non conoscenza non siano in grado di utilizzare in sicurezza la lavastoviglie, non devono farne uso senza la sorveglianza e la guida di una persona responsabile. Queste persone possono utilizzare la lavastoviglie senza sorveglianza, solo ed esclusivamente se è stato loro spiegato come farlo e se sono in grado di farlo in tutta sicurezza. È importante che sappiano riconoscere e comprendere quali pericoli possono derivare da un uso non corretto dell'apparecchio. Adesso, la cosa inaspettata quando si apre un libretto delle istruzioni è che immediatamente, come quando si va a comprare una macchina a rate o si cerca qualcosa, e vieni quantitivizzato. Solo che qua la quantitivizzazione riguarda la misura delle tue capacità fisiche, sensoriali e psichiche. Quindi io subito, Michela ti devo dire la verità, leggendo questa cosa ho pensato che nonostante avessi e abbia usato e usi la lavastoviglie di tanto in tanto, io non so se ho quelle capacità fisiche, sensoriali e psichiche che ne consentono l'uso. Quindi mi sono sentita subito una cialtrona, perché non potendo misurare questa cosa, com'è possibile che io riesca a utilizzare la lavastoviglie? Cosa dice di me? Cioè, ecco, se arriva l'alieno e trova questa cosa qui, cosa pensa di noi? Che siamo in grado di misurare queste cose con esattezza e di premere il pulsante. Questo è vero, non ci avevo riflettuto. La cosa che mi ha colpito mentre la leggevi, questa istruzione, è che di fatto è un'istruzione per il non uso. Cioè, ti sta dicendo chi è che non deve usare la lavastoviglie. E già questo è curioso. E poi è contraddittoria, perché da un lato ti dice che non la possono usare le persone che non hanno le capacità fisiche, psichiche, sensoriali, anche emotive a questo punto, direi. Perché nel momento in cui ti danno questo problema, ti stanno l'ansia. E tu dici, forse con l'ansia non la devo usare neanch'io la lavastoviglie. Però, alla fine ti dice che queste persone devono essere in grado di capire il pericolo rappresentato dalla lavastoviglie. A me questa cosa colpisce perché noi costruiamo le macchine perché facciano quello che nelle persone maggiormente ci annoia. Cioè, perché siano prevedibili. Uno costruisce dei macchinari perché si comportino come sono stati progettati. Tu scrivi un libretto delle istruzioni. Questo libretto delle istruzioni fa paura perché ci sono tipo pochissime istruzioni tecniche su come fare. E ci sono invece pagine e pagine iniziali su come non usarla. È come se chi ha progettato quella lavastoviglie abbia pensato così. La macchina fa quello che è previsto che faccia. Ma le persone no. Le persone sono imprevedibili. Per cui possono ingenerare reazioni nella macchina che pur essendo prevedibile può reagire in modo imprevedibile se provocata da creature imprevedibili. Quindi di fatto quelle istruzioni non sono per la macchina, sono per l'essere umano. Le prime sei pagine sono istruzioni per gli esseri umani e come si comportano. È per questa ragione che secondo me è emblematico. Perché se uno cosa dovrebbe capire degli esseri umani se dovesse leggere come non si devono comportare con la lavastoviglie e che qualcuno sia preoccupato di dirglielo come non si devono... Per esempio c'è un'istruzione che dice non ti devi mangiare il detersivo della lavastoviglie perché altrimenti muori. Ora tu dici una specie aliena che arrivasse qui e non avesse altra traccia che quello. Cosa penserebbe di una specie che potrebbe ingerire il detersivo della lavastoviglie? Chi è lo scemo che ingerisce? Allora io appartengo a una generazione che aveva in casa la miralanza. Adesso non so se ricordate com'era la miralanza. C'era un cestino di cartone spesso e dentro c'era un sapone in grani che aveva alcuni pochi grani blu, alcuni grani bianchi, alcuni grani traslucidi. Io per esempio raccoglievo i grani blu e li suggevo. Sì, anche perché andava il puffo. Quindi per me... Non so se ricordate il genitore all'anice. Scusa, tu mangiavi il detersivo? Sì, ho mangiato il detersivo e anche la coccoina, anche la colla. Mangiavo tutto quello che si poteva mangiare. Scusa, ma quanti anni avevi? Beh, 4, 5, poi 12, 13 anche sì. Sì, anche adesso certe volte quando hanno uso il detersivo della Conad, perché adesso poi sono detersivi ecologici, quindi credo che facciano meno male. Però la verità è questo, quindi quando ho letto quell'avvertenza ho pensato però che fosse diretta a degli adulti che dovevano dunque tenere i bambini lontani dal detersivo, perché questo è l'altra cosa interessante. Ho aggiunto una sommatura di significato alla categoria di tossicodipendenza che non avevo mai contemplato. Sai quando ho smesso... La miralanza. Ho smesso quando, a parte che avevo un po' di problemi di digestione quindi mia madre se n'era accorta, però ho smesso perché raccogliendo i pallini blu della miralanza ho provato a scioglierli in un bicchiere d'acqua e non veniva blu. Quindi ho pensato che ci fosse una froda e stessi mangiando qualcosa che non dovevo mangiare. Ma era di questo tipo la valutazione. Però è pieno di bambini questo... Praticamente ci sono solo avvertenze, è pieno di bambini morti, va detto. Qui nelle prime sette pagine muoiono centinaia di bambini. La lavastoviglie è uno strumento pericolosissimo per gli infanti. Quindi ti dice tutti i modi, ce ne saranno almeno 37, 37 modi in cui un bambino può morire solo avvicinandosi a una lavastoviglie. Non è la ghigliottina, eh? Però è curioso perché in realtà, secondo me, dicono bambini, ma intendono tutti. Solo che per non offendere gli adulti dicono non lasciare lo sportello aperto perché può causare grave ingiuri al bambino che ci inciampasse. Naturalmente a chiunque ci inciampi. Però non vuole dirti esplicitamente saresti così cretino che pur avendo aperto tutto te lo dimenticheresti. Il bambino viene visto. Il bambino, diciamo, come sintesi della tua incapacità di misurare gli spazi, di ricordarti le cose, di avere contezza delle azioni e delle conseguenze. Cioè, praticamente il fanciullino di Pascoli nel libretto delle istruzioni. Ma anche un sacco di adulti che conosco, peraltro. Mi è venuto in mente che non abbiamo chiesto all'Inda Laura Sabatini di fare un'indagine Istat sul tasso di mortalità di bambini a contatto con le lavastoviglie. Ma soprattutto se uno legge queste istruzioni pensa che noi, penserebbe che noi fossi, che facevamo tanti figli, ecco. Non è così. Cioè ci sono più bambini in questo libretto di istruzioni che in tutti gli asili di Roma. Eh, questo è anche molto vero. Sì, ecco, questa è una nota che si potrebbe dedurre leggendo il libretto delle istruzioni. Che siamo una società prolifica. Siamo una società prolifica che ha molta cura dei bambini, che pensa per esempio alle infrastrutture sociali degli asili nido, che per esempio nel recovery fund c'è un sacco di soldi messi per esempio per aiuto ai bambini, cosa che invece tutti risulta sta cosa. Molto poco. Però dal libretto delle istruzioni si vedrebbe questa cosa qui. Quindi per esempio politicamente sembreremo una società orientata alla conservazione, preservazione e cautela della specie. Così non è evidentemente. Però c'è un'istruzione, io me la sono salvata perché questa è veramente geniale. No, quella lì, l'uso ecologico? No. Eh, vabbè. Ah tu, c'è quella l'uso ecologico. L'uso ecologico. Allora, questa è sul porta posate. Allora, se c'è il porta posate, infilare i coltelli e le forchette con le parti affilate o appuntite rivolte verso il basso. Così si possono prelevare con maggiore sicurezza. Lavaggio e asciugatura sarebbero però migliori se coltello e forchette venissero infilati nel porta posate dalla parte delle impugnature. Allora, quest'istruzione è tutto. È tutto. Cioè qui dentro c'è veramente la contraddizione di una società. Ti sta dicendo, poiché sei così cretino o cretina, da non essere al sicuro posizionandole posate e tirandole fuori, ti feriresti, quindi ti diciamo mettile a punta in giù. Però non possiamo nasconderti che se le mettessi a punta in su verrebbero più pulite. Quindi qui c'è la lotta tra sicurezza ed efficienza. È meglio che più persone si feriscano e forse muoiano estraendo le posate dal porta posate? O è meglio che le posate siano più pulite? Più morti o più efficienza? Questa è una domanda che in pandemia ci siamo fatti un sacco di volte, per esempio. Che facciamo? Salviamo più persone o salviamo più aziende, più funzioni, più dinamiche sociali, più scuole? Cosa facciamo? Cioè uno prende questo e dice questa è un'affermazione politica. Cioè se succede una catastrofe queste persone vedranno una contraddizione tra sicurezza ed efficienza. Come la risolveranno non sappiamo. L'istruzione, devo dire la verità, è veramente intelligente perché non dice fai così o fai cosà. Ti dice se fai questo ti salverai, se fai quest'altro mangerai con le posate pulite. Poi decidi tu qual è la tua priorità. Quindi in qualche modo c'è anche una pedagogia alla libertà. Diciamo che l'approccio non è militare, mettiamola in questi termini. Non è coercitivo, ti dà dei margini di interpretazione. A seconda degli strumenti ermeneutici che tu intendi applicare a questa indicazione, di te si dirà che eri una che mangiava con strumenti puliti oppure che è una che si è salvata la vita e non si è messa a rischio. In qualche modo ti sta dicendo anche, determina tu il tuo grado di cretinaggine. Cioè, da 0 a 10 sei così cretino da ferirti sfilando un coltello? Se tu ritieni di no, che non è detto, però se tu ritieni di no, buttati. Anche un po' di temerarietà, sfida la morte mettendole posate con la testa all'insù. In effetti, Michela Murgia giustamente dice che non ha un atteggiamento militare, ha un atteggiamento anarcoide, perché ciascuno è il metro della propria sicurezza, ciascuno è il metro della propria stupidità, ciascuno è il metro della propria psicologia. Quindi, in qualche modo, è anarchico ed è pure autarchico, perché poi ciascuno può decidere da solo che cosa è la libera repubblica del Catanca, come si diceva qualche tempo fa. Quindi, ci sta dicendo questo, tanti sono gli uomini, tanti sono le lavastoviglie. Quindi, anche quella cosa che ci dava sicurezza, che è una macchina fatta per tutti, per una sua funzione, assume in realtà, perché purtroppo, come dice Stanislaw Lem in Solaris, noi andiamo fino ai confini dell'universo e vediamo sempre solo noi stessi. Noi ci compriamo una lavastoviglie e anche il libretto delle istruzioni ci dice che vediamo sempre e solo noi stessi. Quindi è piuttosto angosciante leggere questa cosa. Però, sui bambini, perché vedo che forse ti è sfuggita questa cosa che mi ha fatto molta impressione. Per tutti il libretto, fino a pagina 19, c'è questo è il corretto funzionamento per la salvaguardia dell'utilizzatore e per la salvaguardia dell'avastoviglie. A un certo punto arriva il vostro contributo alla tutela dell'ambiente. E c'è una colonna e da una parte c'è direttiva UE, il vostro contributo, e la direttiva UE dice accertarsi che fino al momento dello smaltimento l'apparecchiatura sia tenuta lontana dai bambini. Questo è il contributo ecologico. E questa è veramente inspiegabile. Perché o sta dicendo siamo una società troppo popolosa, smettete di fare bambini e quindi tenete molto prima di comprare lavastoviglie, lontani i bambini dalla lavastoviglie. Il bambino è considerato un elemento inquinante. O sta dicendo questo, che è una cosa abbastanza agghiacciante dopo aver detto... Aspetta, posso intuire, ma facendo un collegamento con un'altra istruzione. Siccome a un certo punto dice non tenete lo sportello aperto perché un bambino potrebbe entrare all'interno e chiudersi, forse dice fate in modo che non accada prima dello smaltimento. Per evitare di consegnare lo strumento col bambino dentro alla rottamazione. Non alla rottamazione, alla gestione dei grandi rifiuti, come si chiama a Roma, che però non so se vi è mai capitato... Ma andando in prima serata sul giusto di Repubblica, questo forse non c'era un disclaimer che diceva che forse mamme con bambini non dovrebbero guardare questa conversazione. Ma non è vero, perché mica uno sta parlando contro le mamme e contro i bambini, sta deducendo dei comportamenti da questo libretto delle istruzioni. Ma per me è una fonte di ispirazione, perché ci sono così tante cose da non fare, a cui io non ho mai pensato quando mi relaziono con la lavastoviglie, che mi viene voglia di farle tutte. Questo è il problema, perché per persone un pochino temerarie, che sono rimaste un po' a quell'idea di letteratura ottocentesca, dove la gente voleva migliorare la propria condizione sociale, si volevano sposare, volevano andare avanti, volevano andare in guerra, invece adesso non è vero, vogliono solo parlare di problemi interiori che abbiamo, quindi le avventure sono diventate tutte interiori. La lavastoviglie ti porta ancora a un'avventura esteriore, dove c'è il pericolo. Quindi dentro casa tua, dove tu ti senti sicuro, non è vero, perché c'è la lavastoviglie che sta lì a ricordarti che le persone rischiano giorno per giorno. E questa è una cosa che a me mi ha fatto molto piacere, perché io pensavo di fare una vita noiosa, per esempio. Invece guardo la lavastoviglie adesso e sono più felice. Sono una persona che è tornata al grande romanzo dell'Ottocento, grazie alla lavastoviglie. E quindi le macchine, che prima mi chiamiamo già giustamente diceva, Marcello Scini, un grande fisico, a un certo punto mi rispose a una cosa, a una domanda sull'energia nucleare. Ha fatto parte di quella grande scuola di fisici italiani che si sono occupati, fisici particellari, fisici nucleari, dove a un certo punto, faccio a Scini, ma insomma, sta energia nucleare, sì o no? E Marcello Scini mi ha detto, il problema è che l'errore umano esiste. Quindi non si può mai parlare della sicurezza degli oggetti o della sicurezza di quello che abbiamo intorno, senza parlare, come giustamente diceva prima Michela Murgia, dell'imprevedibilità. Però supporre che la macchina non sia imprevedibile, semplicemente perché pensiamo, avendola programmata, di misurare gli errori della macchina, è una mancanza di fede molto grossa. T'ho lanciato sta cosa della fede, Murci. No, perché mi stai entrando nell'ambito. Ma non mi permetterei mai, teologa. Questo è il mio campo, è il mio campo. Stai dicendo che quello è il tuo campo e io ho un altro campo? Certo. Quindi è come il fuori mio e il fuori... No, ma non c'è più neanche il tuo campo, te l'ha rubato Gentiloni, ha parlato lui di algoritmi. E quindi è il fuori mio e fuori tuo? No. Siamo in questa metafora calcistica. Allora, mettiamola così. La palla è tua e te la porti a casa e smettiamo di giocare. Un certamen, mettiamola così, un certamen di posizioni. Sì. Ho la presunzione di riconoscere se una persona è atea o credente a seconda di come ti carica la lavastoviglie. Perché? Perché ci sono proprio due approcci diametralmente opposti, lo zenith e il nadir. Vai. Quando dico credente non intendo dire una fede specifica, ma un'attitudine, diciamo, nei confronti del cosmo, un'apertura al miracolo. Però potevamo rimanere nello stesso ambito semantico e dire una credenza specifica. Credenza o canteranno quello che uno c'è in cucina vicino alla lavastoviglia, per esempio. Non userei mai credenza al posto di fede, però va bene. Allora, prendi l'ateo. Dove per ateo si intende una persona che tende a mettere in stretta relazione le cause e le conseguenze. Un razionalista? Qualcuno che si fida di quello che vede, mettiamola così. Per cui, lui leggerà sicuramente, o lei leggerà sicuramente, tutto il libretto delle istruzioni. Dopodiché saprà come funziona il macchinario. Sa da dove esce l'acqua, sa da dove è la direzione degli spruzzi, sa il detersivo quando è, qual è la sequenza dei cicli del lavaggio, qual è il più conveniente, qual è il più forte, qual è il più è. Sa tutto, sa tutto. Dopodiché carica la lavastoviglie seguendo questa logica, una progettualità. I piatti li mette in quel modo, i bicchieri li mette così, le pentole le mette in modo che l'acqua possa entrarci dentro. Ecco, in questa maniera è molto probabile, diciamo, che ottenga effettivamente quello che si aspetta. Cioè, la vita dell'ateo con la lavastoviglia è una vita pallosissima. Perché appunto, essendo il macchinario progettato per essere prevedibile, se tu rispetti esattamente tutti i codici che ti impone, il macchinario, posso dire, egli, ella, essa. Non lo so, perché essendo io dell'altra parrocchia, cioè io ho l'approccio fideistico al macchinario, non lo so, per me ha una sua personalità. Quindi direi così, direi più ella, ecco. Diciamo che è noiosissima la vita dell'ateo, perché appunto la macchina ti dà le risposte in base alle domande che non c'è sorpresa, non so come dire, non ti aspetti niente di diverso da quello che fa. Invece, l'approccio credente, quello aperto al miracolo, non funziona in quel modo. Funziona che tu in realtà non ti interessi di come la macchina agisce, le istruzioni non le leggi. Ma chi è che legge le istruzioni dei macchinari? Cioè alzi la mano, tra i presenti chi ha mai letto le 37 pagine di qualche... Un ateo tra di voi, eccolo là. Ecco, nessuno le legge, perché sono pallosissime, mettono anche ansia, perché appunto se sono 8 pagine con 37 modi diversi di morire, non ti viene come leggere il bugiardino dei medicinali. Ingoi e basta, non è che stai lì a pensarci. Allora, diciamo che il credente, davanti alla lavastoviglie, pensa, è un microcosmo. Cioè il suo perimetro delimita una realtà interiore che si scatena nell'istante in cui io chiudo lo sportello e premo il pulsante. Da lì in poi io non so più cosa ci accade dentro. Qualsiasi cosa potrebbe avvenire e a me piace pensare che effettivamente ci avvenga. Cioè che possano muoversi gli oggetti all'interno, per esempio. Io quando carico la lavastoviglie, mai, perché tu me l'hai lasciata, ma io non l'ho mai usata, questo te lo devo dire. La uso per riporre le cose per scolare. Non l'ho visto, amor di Dio. Ok, allora, quando la viavo, all'inizio ero speranzosa, ma poi si è resa conto che in realtà no, perché comunque hai una divinità in casa e un po' la devi onorare di quando in quando, ma non sempre anche, non sempre. Allora, secondo me, all'interno è possibile sfidare il mistero. Cioè tu metti i piatti un po' come diavolo ti pare. Le pentole una dentro l'altra, ma che l'acqua non entri. I bicchieri in posizioni dove non arriva il getto. Le stoviglie un po' a testa in giù, le posate un po' a testa in giù e un po' a testa in su. Cioè ti assumi anche il rischio sia di morire che di mangiare con le posate sporche. Cioè ti fidi totalmente della macchina e pensi che nonostante il caos che tu stai generando con quella composizione, la macchina ti sorprenderà e farà qualcosa che compensa il tuo errore. Io trovo meraviglioso questo approccio, perché se tu lo sposti fuori dalla lavastoviglie, naturalmente è come il gatto di Schrödinger, no? Cioè quando tu chiudi non lo sai più se il gatto è vivo o il gatto è morto. Non è importante quella domanda. Sta funzionando. Quando poi riapri, magari qualcosa sarà sporco. Lo rilaverai. Non è un problema. Non è un motivo per non credere al mistero. Perché non lo sai mai cosa sarà sporco e in che modo. Cioè tu ti sorprendi effettivamente di quello che accade là dentro, tenendo presente che anche l'Ateo un po' si previene. Cioè l'Ateo li pulisce molto bene prima i piatti. Li pulisce proprio, gli scarta bene, perché dice più puliti sono, più puliti verranno. Io li metto così come sono, col sugo, con gli avanzi, con le robe, tutto dentro. Deve farlo la macchina, non lo devo fare io. Vedo le mani alzate e dicono no, no, no. Ecco, allora questa cosa qua, se tu, io nella vita ho questo approccio qua. Cioè tipo, entri in un amore, dove tutte le premesse ti dicono qui finisce veramente malissimo, eppure tu dici ma potrebbe avvenire il miracolo e entri nella catastrofe. Talvolta avviene, credo di sì, a me mai, però non vuol dire che non potrebbe avvenire. Quindi l'approccio, certo, l'approccio è come lo sportello, così. Oppure entri in un luogo di lavoro, dove tutte le premesse ti dicono che finirà malissimo, che non c'è modo né di crescere, né di star bene, né di... Cioè nonostante tu ci entri perché dici voglio fidarmi dell'imprevedibile. C'è una quota, diciamo, di miracolo possibile che si può sviluppare. Questa cosa, questa fiducia nel caos e che il caos possa determinare un ordine superiore a quello che tu sei in grado di progettare questa cosa qui, secondo me, è la connotazione umana più interessante, senza la quale se fossimo stati tutti con un paradigma ingegneristico secondo me ci saremmo estinti. Se deve succedere solo quello che siamo in grado di progettare cioè, se non muoio di qualcosa, morirò di noia. Come la carichi tu la lavastoviglie, Slater? Allora, prima di tutto quando ancora studiavo matematica io prendevo la lavastoviglie come un esercizio di tassellatura. Le tassellature sono quel processo geometrico in cui tu cerchi di ricoprire una superficie piana sempre con la stessa figura non lasciando nessun buco. I pavimenti sono fatti a tassellatura ne esistono 11 tipi potete pensare a qualsiasi pavimento esagonale o triangolare o quadrato che vi venga in mente quella è una tassellatura quindi io esattamente lo facevo con quell'esercizio. Poi ad un certo punto ho smesso perché le ossessioni rimangono però ogni volta che per esempio lo faccio con il portabagagli cerco di non lasciare neanche un buco oppure lo faccio con la valigia quindi riduco tutte le maglie alla grandezza di un tascabile sellerio e l'impilo tutti uno sopra l'altro. Però l'eccezione teologica anzi dello stesso ambito semantico di Mur già la fa Saramago in quel bellissimo romanzo che è Il Vangelo secondo Gesù dove ad un certo punto il diavolo dice a Gesù il miracolo non è una cosa tanto buona se devi modificare la ragione intima delle cose per renderle migliori Murgia si sta affogando e l'altra cosa molto interessante riguardo a questa distinzione tra razionalisti e non razionalisti quindi tra quelli che credono nel miracolo e quelli che non ci quelli che anzi che accettano la possibilità del miracolo e quelli che non l'accettano che forse è più corretto è una frase di Feynman grandissimo fisico forse sta in esergo a Feynman Lectures on Physics adesso non mi ricordo però dice questo Feynman era un grandissimo bonghista e dice a un certo punto tutte le volte che mi hanno chiamato a suonare il tamburo in pubblico hanno sempre evitato di dire che mi occupo di fisica come se capire la ragione intima delle cose impedisse di coglierne la meraviglia e questa è la grande distinzione degli esseri umani quelli che pensano che i razionalisti come pensami che la murgia non abbiano accesso alla meraviglia invece la meraviglia è indipendente dai comportamenti murgia la meraviglia è come la grazia non lo sai se ti capita grazie a certe religioni che non sai se ti capita o non ti capita quindi la cosa importante è che io carico la lavastoviglia ovviamente anche la mile il libretto di istruzioni dice di non farlo dice di non sciacquare i piatti dice di non metterci le carote o i pomodori perché il colore rovina la macchina e la tinge e la tintura la indebolisce quindi ogni volta che mettete una carota state attentando al funzionamento della vostra lavastoviglia quanto meno la sua coerenza cromatica interna che è fondamentale nell'arredo di una casa è questo esatto quindi questo libretto dice anche è interessante anche da un punto di vista politico a noi ci ricordo ovviamente quella cosa l'unica facoltà vera che avevano i tribuni che era una facoltà di veto ecco questo non è un libretto di istruzioni è un libretto di veti adesso dove sta il coraggio degli esseri umani che comprano una lavastoviglia volta per volta o qualsiasi altro elettrodomestico sta in questo sfidare i veti sfidare i veti quindi ogni volta che voi premete un pulsante ogni volta che caricate una lavastoviglia state facendo un gesto sovversivo fortissimo perché quello vi ha detto di non farlo se non nel modo come lo dice lui e quindi avere questo strumento che in fondo ti esercita la rivoluzione è un periodo normativo su carta in 37 pagine esatto adesso vorrei aggiungere una postilla scusa che sono essendo razionalista controllo l'orario sono le 20 e 43 minuti ce l'hai lì davanti guarda c'è un timer ah vedi non ho visto quella macchina perché io sono miope ma io sono l'autarchico quindi ho il mio dispositivo personale allora credo ancora nei sistemi qualcuno lo farà per me lì è l'approccio della lavastoviglia lo farà per me allora non vorrei che passasse la linea perché se è vero che irrazionalisti contemplano anche la meraviglia non vorrei passasse la linea che i credenti invece sono delle creature irrazionali prima lettera di Pietro dobbiamo essere sempre in grado di dare ragione della speranza che è in noi io so dare ragione della speranza che è in me nel momento in cui chiudo lo sportello di una lavastoviglie nel senso che accetto che l'inconoscibile perché io in realtà quella macchina non la conosco ma neanche lei ti conosce Murja perché vuoi conoscere persone che non ti vogliono conoscere? conosciuti nella stessa casa cioè tantissime serie tv nascono in questo modo specialmente le serie tv coreane tu convivi con la tua lavastoviglia Murja convivo con la mia lavastoviglia e col fatto che la mia lavastoviglia ti è appartenuta quindi in qualche modo mi è sconosciuta ma non del tutto è un oggetto transizionale? è un oggetto transizionale diciamo che ha degli elementi nostalgici di te io non usandola in realtà preservo la tua memoria perché se io diciamo usandola la manomettessi perché parli di me come se fossi morta un bambino come se fossi un bambino un bambino morto che si è infilato nella lavastoviglia e è morto soffocato poi tra l'altro vabbè non voglio parlare della cubatura dell'aria perché faccio tutte le cubature delle misure in pascal prego Murja scusa la mia rabbia nei confronti della lavastoviglia è questa la lavastoviglia non è un oggetto da single cioè quella macchina mi ricorda tutti i giorni che io vivo sola cioè non vale la pena avviare una lavastoviglia per quello che sporco io quindi dovrei aspettare tipo 3-4 giorni di averli accumulati a sufficienza i primi a quel punto stanno già producendo colonie di animali esseri viventi di varia natura e poi avviarlo ma non lo faccio quindi io in realtà lavo tutto a mano la lavastoviglia sta lì io so che lì occupa spazio tantissimo in una casa che non ne ha molto non sto criticando casa tua adesso però non ne ha molto diciamo ho disegnato io il mobile tutto quanto ho fatto venire il marmo della chiesa di tre menzioni non fa niente Murja è come dire la personificazione tridimensionale di una vita solitaria quindi sta dicendo sono qui ho mille funzioni ma nessuna ti serve perché è meno conveniente per te usarmi ogni volta che tu mi usassi ti ricorderesti che da sola non basti a riempirmi no ti ricorda in realtà ogni giorno che tu non sei disposta a stare con qualcuno per usare la lavastoviglie ma ti pare che dovevi farmi mettermi così avrei due strane in casa la lavastoviglie è anche uno quindi la verità è che tu non capisci la lavastoviglie ma lei non ti capisce quindi la verità è questo che noi stiamo dicendo della macchina ma la macchina sta dicendo molto di noi inoltre il fatto che tu odi la macchina lo dice il fatto che pur vivendo sola quando tu ti devi cucinare Murja si fa anche una fregola con sette brodetti che uno dice per una persona sola non me lo faccio quindi perché la cucina è abbastanza per una persona sola e la lavastoviglie no? perché sei preferisci la vita organica questa è la verità invece ci sono delle vite di silicio niente di male a preferire la vita organica ci sono delle vite di silicio altrettanto valide Murji hai letto troppo Ishiguro hai letto allora Ishiguro è in assoluto il somo sacerdote letterario del posto umano da non lasciarmi fino perché scuoti la testa? niente io sono laureata in cibernetica adesso è arrivato Ishiguro Murji ho letto Wiener nel 1951 libro L'uso umano degli esseri umani Dio e Golem quando diventi performativa è una roba insopportabile no per dire c'è un libretto delle istruzioni anche Wiener un bel libretto delle istruzioni ma prego Murja prego Ishiguro rispetto a un libretto delle istruzioni la letteratura è tutto perché il libretto delle istruzioni di una lavastoviglie non è letteratura perché ti spiega tutto Ishiguro immaginando mondi postumani dove le macchine fanno già cose che in realtà spetterebbero agli umani nella nostra economia attuale non ti spiega niente cioè tu non capisci neanche la forma che hanno le macchine che Ishiguro descrive nella sua poetica e questa cosa è molto interessante perché le macchine di Ishiguro non mi fanno paura perché non sapendo come sono fatte tu non comprendi il pericolo che rappresentano tu non sai che cosa ti può riservare una macchina senza libretto delle istruzioni questa cosa mi piace molto ecco io credo che se non avessi letto il libretto delle istruzioni della lavastoviglie probabilmente la userei non è vero non la usava nemmeno prima però non l'ha mai usata la odia cioè la verità è che noi stiamo facendo questo incontro perché Michela Murgia odia la lavastoviglie e quindi ha deciso di io volevo scegliere la lavatrice sei tu che hai detto la lavastoviglie la lavatrice è il vero strumento che non può mancare nella casa di una donna soprattutto perché è la fonte di ogni autodeterminazione cioè senza la lavastoviglie saremmo ancora al fiume come ha scritto Antonio Pascale non ricordo in quale suo libro ma l'editore è in Audi Antonio Pascale scriveva dalla lavatrice di mia madre non uscivano solo i panni puliti ma usciva il tempo per leggere per lei e questo sicuramente riguarda la lavastoviglie la lavatrice incredibilmente c'è da dire che la lavatrice ci ha dato anche tanti modi di dire cioè lavare i panni sporchi in casa per esempio esatto nessuno ha mai detto lavare i piatti sporchi in casa non c'è la metafora in realtà non è una fonte di metafora la lavastoviglie no è uno strumento molto più arido della lavatrice se ci pensi perché? perché la lavatrice ha un oblò e tu vedi il movimento quindi il lavaggio mistico ti è accessibile tu il miracolo lo vedi è troppo antropomosto mentre quello che avviene a sportello chiuso nella lavastoviglie non lo sai cioè quale mostro si mangia le schifezze attaccate ai piatti e quale lingua entra tra una pentola e l'altra per lingere gli avanzi che abbiamo lasciato e quale esercizio di ipotesi ti fa fare una scatola nera nella quale tu non sai che cosa succede quale esercizio di astrazione quale esercizio di invenzione di un'altra realtà quanto guardare quella lavastoviglie chiusa che manda solamente rumori e suoni certe volte non capisci mai dove si mette il brillantante fa sì che tu immagini un sistema già il fatto se io fossi una specie aliena e arrivassi qui già il fatto che esista una cosa che si chiama brillantante mi porrebbe delle domande perché il brillantante non serve a pulire a cosa serve? a rendere le stoviglie brillanti ma che specie è quella? l'Ittera che serve sì però appunto le payette i lurex le stelle nel cielo ma non ci sono payette e lurex quando questi arrivano c'è solo il vetro di istruzioni quindi dice questi non solo le vogliono pulite le vogliono brillanti una cosa che devi risporcare il giorno dopo vuoi che brilli però nelle more tra un momento di sporcizia e l'altro e questo direbbe di noi una cosa che ci stanno facendo perdere o che stiamo facendo da soli stiamo perdendo da soli che è la possibilità di sprecare lo spreco è la cosa più sanzionata del mondo lo spreco da un punto di vista ovviamente ecologico è un fattore che andrebbe sottolineato e capito ma soprattutto anche qui mi sembra che non ci sia tanto nel recovery tutte queste cose per il green meno di quelle annunciate molto meno di quelle annunciate nonostante ci sia praticamente un ministero apposito mentre invece lo spreco intellettuale lo spreco culturale l'andare a scuola non capire per anni l'andare all'università non capire poi a un certo punto svegliarsi e capire le cose quello spreco lì mentre uno impara quella ruminazione per tornare a una cosa di cibo è quella è sanzionatissima mentre invece la specie arriva trova il brillantante e pensa ammazza che fighi quanto tempo facevano per pensare a questi e perché posso addirittura far brillare cose che sporcheranno il giorno dopo e questo è una cosa è un esercizio questo è quasi un esercizio mistico tu dici che è l'equivalente diciamo il brillantante è quel superfluo che rende significativo l'utile esatto esatto puoi ripetere un attimo mi è venuta così ma tanto va in streaming qualcuno la segnerà senti un attimo quindi è l'equivalente dell'arte è l'equivalente dell'arte esattamente quello mi stai facendo rivalutare una lavastoviglie anche le stoviglie diciamo perché poi quando uno è single spesso ha le stoviglie che ci arriva va dritto alla pentola diciamo Murgighi chiedimi se hai una lavastoviglie hai una lavastoviglie? no lei non ce l'ha io ce l'ho ma non la uso e tuttavia abbiamo discettato per quanto mezz'ora di questo strumento che è chiaramente come dire è un oggetto mistico non è una cosa che non ridurre la lavastoviglie la sua funzionalità è veramente sintomo di povertà intellettuale se l'avete fatto fino adesso interrogatevi anche sul vostro approccio al mondo diciamo c'è ovviamente quell'altra cosa pericolosissima oltre la parte buona è questa che ha detto Michela Murgia la parte cattiva è un'altra che io trovo per esempio pericolosissima ed è questa cioè quando uno davvero non capisce le cose e si fida in qualche modo che funzionino e quando si rompono l'unica cosa che fa è girare su se stesso due volte e staccare la spina anche se è pericolosissimo dal libretto staccare la spina attenzione a non farlo e staccare la spina della lavastoviglie e riaccendere per vedere se riparte ecco quella cosa li somiglia incredibilmente a fenomeni religiosi o magici mentre la tecnologia non è esattamente questo solo che per distanziare e dissociare la tecnologia dalla religione bisogna fare quello che Viner già nel 1951 diceva e avvertiva con un pericolo che è studiare adesso studiare in un mondo dove lo spreco è sanzionato lo spreco intellettuale è sanzionato perché bisogna fare e riuscire è una cosa difficile quindi io penso che tutti quanti che abbiamo questi libretti di istruzioni in casa che non abbiamo mai letto se leggessimo un libretto di istruzioni immediatamente potremmo capire che quei fenomeni strani misterici mistici alcune volte sono incomprensioni e queste incomprensioni togliere le incomprensioni dalla vera mistica che la lavastoviglie ha ci aiuta a goderci di più quella cosa lì ecco io penso che questo sia la parte che è un pensiero malinconico ho pensato che io sono stata sposata e finché sono stata sposata avevo una lavastoviglie e la usavo effettivamente la caricavo io poi però non la azionavo perché la caricavo solo per il pranzo poi dicevo la attiviamo stasera e ho scoperto dopo quattro anni di matrimonio che mio marito interveniva dopo di me e riposizionava le posate e le stoviglie per cui tutte le volte che poi riaprivamo e le cose venivano veramente pulite io avevo più fede nell'oggetto e non sapevo che c'era stato un intervento diciamo nel mezzo che aveva favorito la funzionalità ecco questa cosa qui io l'ho trovata veramente devastante cioè perché mi devi impedire di credere che l'oggetto basti a se stesso l'ho trovata veramente brutta non voglio dire che è una delle cause del divorzio però avrebbe potuto esserlo se io avessi come dire elevato obiezione no questo ti dice un'altra cosa che la mistica nell'oggetto tecnologico è l'altro quindi che non bisogna cercare fenomeni ulteriori ma sono qui quindi adesso io poi dentro di me sono gli ala quindi io penso che lei mi racconta questa cosa e penso che invece questo è il sintomo che l'amor amor vicitomnia capito per usare il brocardo latino questo? no 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 è perché io ho avuto un trauma da bambina cioè allevavo bacchi vermi di cavolaie che sono un tipo di farfalla e facevano la crisalide sotto il mio tavolo e poi uscivano le farfalle quasi sempre qualcuna veniva male racchitica per cui non usciva e questa cosa mi disperava perché dovevo assistere alla sua agonia mentre non riusciva a rompere la crisalide che si era fatta e poi io celebravo dei piccoli funerali dentro scatole di fiammifferi si sotterravo eccetera essendo cattolica però io li ammazzavo una famiglia cattolica credevo nella risurrezione delle farfalle tanto quanto nella mia perché ero antispecista dall'inizio ecco questa cosa una volta mio fratello dopo il seppellimento di una farfalla mi vedeva piangere disperata io dicevo spero che tu risorga e la notte mio fratello è andato ha scavato ha tolto la crisalide della farfalla morta e ha rimesso la scatola dentro in modo che io andando a controllare poi trovassi il sepolcro vuoto come Giovanni che corre appunto questa cosa qua io sono rimasta commossa per anni ho pensato ho assistito a un miracolo nella mia infanzia uno solo una farfalla risorta ma che mi fa credere nella mia risurrezione mio fratello a distanza di anni avrà avuto tipo 37-38 anni mi ha detto sai che quella volta l'avevo fatto l'odio l'odio capisci cioè Caino e Abele in quel momento perché dovevi disto dovevi tacere fino alla tomba perché io avrei creduto anche nella tua risurrezione e invece non l'hai fatto ecco mio marito mio ex marito in quel momento intervenendo nel rapporto mistico tra me e la macchina ha fatto la stessa cosa mi ha privato della fede nel caos creativo come posso perdonare una cosa del genere non lo perdoniamo concludiamo però come vedete si possono fare delle grandissime sedute psicanalitiche ricordando se stessi e gli altri semplicemente caricando la lavastoviglie grazie mi caramurgia grazie questo format si chiama istruzioni per l'uso intendiamo farne come dire una sequenza il prossimo incontro prevederà appunto l'analisi di istruzioni per l'uso di altri oggetti di casa non necessariamente ma oggetti che il DDL ZAN sanzionerebbe perché io voglio che io e te discutiamo delle istruzioni d'uso di un sex toy scordatelo murgia arrivederci grazie Repubblica delle idee buonasera